Musica Cari amici buongiorno e ben ritrovati con i consueti appuntamenti quotidiani dedicati alle analisi operative. Oggi 16 luglio 2019 analizzeremo un titolo molto interessante, un titolo bancario all'analisi di GS Goldman Sachs Group Incorporation. A Wall Street è tempo di numeri quello appunto degli utili tra oggi e giovedì abbiamo diverse banche per quanto riguarda appunto gli utili trimestrali. Si parte con JP Morgan oggi poi abbiamo sempre nella giornata odierna abbiamo West Fargo poi Goldman Sachs e poi 17 domani Bank of America e Morgan Sully. Tra queste ho preso come punto di riferimento anche per un'analisi più importante dal punto di vista giornaliero ho preso come la migliore in assoluto momento il migliore scenario tra le varie trimestrali delle varie banche appunto Goldman Sachs. Si tratta appunto che cosa sono le trimestrali? Si tratta di stime che arrivano proprio nel momento in cui negli Stati Uniti e in tutto il mondo sale l'attesa per i tassi di interesse non solo da parte della Fed ma anche da parte della Banca Centrale Europea. In tutto questo grazie proprio alle nuove strategie che metteranno in campo le due banche centrali più importanti al mondo. Bene, adesso andiamo a vedere quindi quello che potrebbe succedere per quanto riguarda Goldman Sachs. Abbiamo parlato di trimestrali quindi prima di poter analizzare con attenzione il grafico concentriamo un attimo la nostra attenzione sui valori che potrebbe assumere Goldman Sachs appunto oggi pomeriggio quindi in premarket quindi praticamente con che cosa potrebbe succedere oggi. Bene, adesso andiamo a analizzare attentamente anche i valori delle trimestrali precedenti con al momento abbiamo quasi tutti i valori previsti quindi ricavi positivi tranne quello riferito al primo trimestre 2019 che è stato rilasciato esattamente il 15 aprile, quello che si riferisce al primo trimestre, mentre invece oggi avremo quelle del secondo trimestre ovvero aprile, maggio e giugno. Molto interessante guardare l'EPS ovvero praticamente è l'utile netto a disposizione per ciascuna azione in circolazione del titolo in oggetto e quindi è considerato come una variabile fondamentale nella determinazione del prezzo per azioni. Inoltre l'EPS è un importante componente utilizzato per calcolare il rapporto di valutazione prezzo indice. Questo sta per l'acronimo Earnings for Share. Bene, quindi vedete abbiamo tutti i valori positivi come dicevo prima tra quello del 15 aprile. Infatti vedete abbiamo la tabellina ricavi EPS è il dato previsto quindi l'unico negativo è risultato proprio questo qui con i ricavi minori del prezzo. Si è fermato a 8,93 rispetto a 8,81. La situazione potrebbe quindi portare Goldman Sachs nel terzo trimestre 2019, a meno dalle ultime indicazioni, ad una trimestrale positiva. A questo punto noi andremo a sfruttare la situazione per poter entrare al mercato in acquisto sul titolo Goldman Sachs ovvero CFD in questo caso. Quindi a questo punto spostiamoci sulla piattaforma e andiamo a vedere un po' in ottica giornaliera come si presenta ai nastri di partenza prima dell'apertura di Wall Street come si presenta ai nastri di partenza la situazione. Bene, allora, prima di tutto abbiamo il movimento realzista che ha caratterizzato, vedete, al fine anno del 2018 c'è stato questo movimento, poi una vistosa correzione fino a raggiungere precisamente il 50% di questo movimento per poi avere una risalita. Ovviamente ho cercato di poter andare quindi a traslare potrebbe essere un ABCD, classico movimento ABCD ed a questo punto vedete con il movimento in oggetto, quindi a questo punto vedete ho, sono andato semplicemente a calcolare il, allora questo è A, questo è B, quindi potrebbe essere un ABCD al 100%, quindi abbiamo un AB uguale a un CD, quindi siamo proprio al centro di questa movimentazione, quindi alla rottura, precisamente oggi nel caso in cui aspettiamo la trimestrale perché poi è un, quindi aspettiamo, sopra 2,14, sopra il massimo di ieri, potremo estendere, quindi potremo entrare al mercato buy con, davanti a noi abbiamo due target, il primo target a 231,65, zona testata già in passato esattamente il, il, su una parte di, su una fase discendente dell'8 novembre del 2001, del 2018 e poi abbiamo un altro target molto più importante che è stato testato l'ultima volta il 28 agosto, del fine agosto del 2018 a 242,57, ciò vanno ad, sono questi punti di massimo, vanno ad identificare due zone, possibili zone di supply, però già possiamo già iniziare quindi sopra, ripeto, sopra il 200, quindi al 214, 200 quindi alla rottura, al breakout, qua sopra aspettiamo e quindi ci andremo a mettere long con 160 punti, dobbiamo andare a noi quasi 170 punti, quindi al di sotto sui un target, sui 231,50, 231,60. Bene, per questo appuntamento è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento, grazie mille per la vostra attenzione, buona giornata a tutti!